La nuova pavimentazione del ponte vecchio di Bassano è composta da due fasce di pietra che sono le fasce preesistenti, una pietra calcarea. A unire queste due fasce di pietra ci sarà un battuto alla veneziana composto da calce e inerti di fiume. A pochi giorni dalla posa della nuova pavimentazione del ponte vecchio, il municipio di Bassano del Grappa presenta il progetto facendo parlare l'architetto che lo ha redatto. Niente da eccepire ovviamente sul professionista, ma le modalità lasciano alquanto perplessi. Primo perché l'amministrazione di Elena Pavan ha deciso di presentare questa importantissima novità a una manciata di giorni dai lavori senza confrontarsi prima con la città. In secondo luogo non c'è stata alcuna conferenza stampa nemmeno virtuale come prevedono i protocolli di sicurezza sanitaria. Niente domande di giornalisti, niente contraddittorio, un bel video e tanti saluti. Terzo, la pavimentazione non si vede. Nel video infatti viene mostrata per qualche secondo una foto di una piastra uguale a quella che vi avevamo mostrato noi. Niente ricostruzioni digitali, niente di niente. Lascia poi perplessi la spiegazione tecnica sulla scelta del materiale. Pavimentazione che è considerata da sempre una strada, cioè un percorso di mezzi che mettono in collegamento la sponda destra con la sponda sinistra. In tempi non sospetti c'era stato detto che il restauro sarebbe dovuto andare al passo con i tempi e con le esigenze della città. E non risulta che sul ponte e ora debbano passare mezzi a motore. Ci passeranno i bassanesi che ancora una volta non potranno che prendere atto di quello che viene deciso dall'amministrazione di Elena Pavan.